Nonostante il mio corpo ferito fiorirò, sono stata giudicata perché donna. E' questo il motto dei movimenti di resistenza e femministi iraniani che da oltre 44 anni sono impegnati in Iran per l'ottenimento della democrazia e della libertà, contro uno dei regimi teocratici più sanguinari. Il grido donna vita libertà riecheggiato nelle piazze di tutto il mondo, d'Europa ed Italia, ne ha riportato al centro del dibattito politico la questione femminile. La richiesta di tutele, di libertà, che non possono solamente più essere avanzate da noi donne, ma che invece devono riguardare la totalità della cittadinanza. Non può esserci una società che si definisca democratica, prospera, egualitaria, se non c'è una donna libera ed emancipata. Ed è quindi la centralità dei diritti delle donne, quali diritti umani universali, come riportato nella piattaforma promessa democratica di Gianni Cuperlo, che deve essere quella linea che ci deve prospettare e ci deve soprattutto far tornare a immaginare una sinistra di questo tempo, per poterla pensare e praticarla in Europa, nel nostro paese, ma soprattutto anche che guardi a quelle nuove classi dirigenti, a quei movimenti che stanno portando il tema della donna centrale in Iran, in Afghanistan, nel Sud America e nel resto del mondo. E con una società e con i diritti rivolti alle donne e alla centralità della figura femminile, è possibile quindi prospettare anche un sogno utopico, una prospettiva di una società civilmente emancipata, di quella società in grado che ti permetta il riscatto, l'ascensore sociale, una parità di salario e soprattutto una prospettiva di poter crescere e di poter vivere in maniera equa. È un percorso politico questo, indirizzato e descritto. È una promessa democratica, sì. È una promessa democratica che disobbedisce a quella cultura del potere ipnotico, per la quale si considera consuetudine la subalternità della donna, la subalternità del lavoratore, l'inesistenza dell'immigrato del richiedente asilo, quel potere ipnotico per il quale l'amore si trasforma in violenza, in possesso, quel potere per il quale il lavoro si trasforma in una paga iniqua, in un salario non dignitoso, quell'idea che una persona possa possedere l'altro. E la promessa democratica, la promessa democratica riportata in questo manifesto è proprio quella di una sinistra che scelga, sceglie dalla parte da cui stare, quel pensiero, quell'impegno, quell'impegno per la donna, per la vita e per la libertà.